Cosa senti di dire a chi ha paura di partecipare a questo sciopero? Non abbiate paura, aderite in massa a questa manifestazione importantissima per tutti noi affinché venga riconosciuto il nostro diritto. Se i volontari dovessero fermarsi perché di volontariato si tratta, cosa succede? Succederebbe un cosiddetto patatrack, praticamente il servizio andrebbe in tilt perché l'ambulanza senza il soccorritore volontario non si muove. Se manca il soccorritore volontario, figura importante, l'ambulanza non si muove. I medici possono anche scioperare, ma l'ambulanza comunque va in funzione perché c'è la copertura di autisti e soccorritori infermieri, ma se manca il soccorritore volontario l'ambulanza non si muove. Sembra quasi che il servizio di 118 possa essere fatto da chiunque, non è così? Questo servizio va tutelato perché non è regolare che un soccorritore con anni di certificazione, anni di esperienza debba essere messo da parte per far garantire un servizio delle nuove leve, delle cosiddette nuove leve che magari si accingono da poco a prendersi degli attestati e vengono subito messi sulle ambulanze mettendo a repentaglio la vita dei cittadini.